Il candidato alle presidenziali ucraine, Petro Poroshenko, ha reso omaggio questa domenica alle vittime di piazza Maidan. Un ulteriore contatto con gli elettori per quest'uomo che sembra essere il favorito dei sondaggi dopo aver incassato il sostegno dell'ex boxeur Vitaly Klitschko. Lo stesso giorno, venerdì, Poroshenko ha rilasciato alcune dichiarazioni a Euro News. Siamo pronti per un compromesso con la Russia. Abbiamo una semplice precondizione che l'occupata Ucraina conservi la propria integrità territoriale e la propria sovranità, l'indipendenza. Per questo le forze russe dovrebbero partire dalla Crimea e la Crimea dovrebbe restare Ucraina. Se questo si verifica, siamo pronti a concedere una importante autonomia, siamo pronti a concedere uno status speciale a Sebastopoli e uno speciale regime fiscale per l'intera penisola. Mentre i militari ucraini lasciavano la settimana scorsa la penisola, Poroshenko puntava il dito sul fatto che le famiglie dei militari, così come i tatari di Crimea, potevano correre dei rischi, sottolineava anche la sua posizione a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Non accettiamo un scenario che preveda una federazione, non accettiamo e combatteremo un movimento separatista. Ci batteremo per un'Ucraina che deve essere unita, potente ed economicamente sostenuta e penso che a breve avremo un risultato. La settimana scorsa l'FME ha annunciato un aiuto da 14 a 18 miliardi di dollari per Kiev, di cui tre da sborsare subito per evitare il default. In cambio, il paese si appresta a fare riforme dolorose. Il pacchetto di riforme dovrebbe essere fatto su misura, di modo che i cittadini, soprattutto più poveri, non debbano pagare il prezzo maggiore. Ora il pacchetto di riforme, anche se dure, è sostenuto dai cittadini, grazie anche a una comunicazione franca e diretta. Soprannominatore del cioccolato, Petro Poroschenko ha un patrimonio stimato in circa un miliardo di euro, secondo Forbes. La sua società è tra le prime 20 confetterie del mondo.